Il Piemonte fa da apri pista sull'innovazione sociale, la regione intende esportare in altre regioni azioni e buone pratiche avviate da oltre un anno con la strategia We Care per fare in modo che i progetti si trasformino in patrimonio condiviso e nazionale. L'ambizione è quella di diventare un laboratorio di regioni all'avanguardia in un'Europa che molto sta investendo sul tema. Alla base c'è un protocollo d'intesa alla quale hanno aderito Piemonte, Toscana, Molise, Calabria, Puglia e Sardegna e la provincia autonoma di Trento in occasione del forum sull'innovazione sociale che si è tenuto il 23 gennaio a Torino. Al centro del dibattito un'eccellenza piemontese, il We Care, Welfare, cantiere regionale, la strategia che ha messo a disposizione del territorio 20 milioni di euro per la realizzazione di progetti nell'ambito della rete dei servizi sociali. Stiamo parlando in particolare delle diverse forme di inclusione sociale di persone che sono in età attiva e che sono al di fuori dei processi di lavoro. L'altro grande campo su cui dobbiamo lavorare è certamente il tema dell'invecchiamento, perché la nostra società ha queste caratteristiche. Non sono più sufficienti i modelli tradizionali con cui noi affrontiamo questo tema. Abbiamo la necessità di avviare nuove forme di cura, di accompagnamento per le persone che vivono di più. Il forum ha rappresentato anche l'evento annuale del Fondo Sociale Europeo, strumento finanziario con cui l'Unione Europea sostiene l'occupazione negli Stati membri. Perché l'Europa è anche questo, ha ricordato il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, presente all'evento insieme alla Capo Unità della Commissione Europea, Adelina Doss Reis. Per il Governatore, l'esistenza dell'Europa si traduce in azioni concrete sul territorio che molto hanno a che fare con le politiche attive del lavoro. Noi crediamo sia importante far sì che le politiche assistenziali, quindi le politiche che permettono alle persone di essere supportate in una fase difficile del proprio percorso di vita, devono incontrare, per poter appunto innescare un meccanismo di trasformazione, devono poter incontrare una politica per il lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire offrire loro delle opportunità perché possono ripartire anche da un punto di vista lavorativo.